buongiorno come vedete eccoci qua questo è il mare di castella mare e stiamo qua su questa bellissima sciaggia per ammirare sia il tramonto come vedete questo è il tramonto e questo è il cielo di questa sera il cielo un po' oscurato dalle nuvole bellissimo tramonto comunque e ci sta anche il Vesuvio più in là come avete già visto precedentemente stamattina stasera volevo dire stiamo ad ammirare questo splendido tramonto ci sta questo mare che fa che sta facendo questo mare abbastanza tranquillo anche se è un po' rumoroso come possiamo sentire da sottofondo del microfono e vi saluto per oggi e ci sentiamo alla prossima una buona serata a tutti ciao ragazzi grazie